Evochiamo i nobili. Quando un mago si scomoda a usare il bastone, devo dire nel momento di fare sul serio, questo è un colpo che abbatterebbe un dio moco. Sottisci, te lo ho tutto. E' proprio come il mana non sta scendendo grazie alla bagoltia che dice lui. Ecco adesso sta iniziando a chiedere mana. Come vedete abbiamo una barra di 89. Allora stai cercando di far insegnare. Perché abbiamo la barra di un atto tentativo. Penso le pace sarebbe già morto da mo. Ok, il secondo colpo è più profondo. Andiamoci a dentro di una distanza. Ho dovuto interrompere il bastone perché l'ha affidato il colpo in arrivo. Continuiamo a dare mana. Ora si sta avvicinando. Preferisco curarmi col fuoco. Alla bagoltia che mi ha passato, ok? Riprova, riprova a mo. Roll, ancora roll. Ancora roll. Ok, qui non posso fare nulla. Perché è troppo, troppo vicino. Dobbiamo portarci dall'altro lato dello stage. Ok, come vedete la sua fiamma non può nulla contro la mia protezione ancora. Ed ora, preparati Mog. Stai per tirare le cuoia amico. Sei forte, devo dire che dopo tutte le pace che quei musicali della Fromm hanno sfornato, ora sei davvero forte. Non abbastanza. Non abbastanza. Bella raga. Dalla giuba rossa è tutto, ancora una volta. Grazie.